Il Comandante Zeral Pente, il Faustino da Costa, a togliere i raccini, il giornalista c'era, a fuori un incontro con il Presidente della Repubblica, Francisco Guterres Luolo, quinta settimana, il Palazzo di Presidenza, va a rupire di lì. Ma che il Presidente decreta un'està di emergenza in la seconda fase, ma il movimento comunità di tanto, lo carretto a non motorizzare la capitale di lì, l'ho anessano loro un bai bain. Non è molto attività, l'ho già quasi l'ho normale. Il Presidente della Repubblica, è molto attività, Grazie a tutti. Grazie a tutti.